L'hanno preso, fai la serie. Che parte fai? Faccio la parte tua. La parte mia? Che tosta, eh? Poi ho preso pure il maschino. Ah, non puoi fare la parte mia. Poi ho destra. Se vuoi pure girare la TV, ribaltano l'immagine. Lo posso fare per te? Ma sei bravo. Io sono conosciuto col tuo poster in camera. Come si può interpretare un poster? Parlavi col poster pure te? Ogni tanto mi rispondi pure. Certo, allora mi metti qualche dubbio per far firme, eh? Parlavi con un poster? Parlavi con un poster?